Irisacqua ha ottenuto un contributo da 6 milioni di euro per una nuova condotta aduttrice al servizio del sistema acquedottistico di Monfalcone, interconnessa con la dorsale che alimenta l'acquedotto di Trieste. L'intervento presentato oggi in municipio è stato inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel capitolo Investimenti in Infrastrutture Idriche Primarie per la Sicurezza dell'Approvvigionamento Idrico. Sono molto orgogliosa che di nuovo su questo territorio siano stati premiati i progetti PNRR dopo il nostro di 1 milione e 6, questo che consente a costo zero per il cittadino, perché sarà un investimento che verrà realizzato senza che poi in bolletta ci siano degli incrementi, 6 milioni per la riqualificazione di una parte importantissima della conduttura che appunto rifornisce di acqua sia la città che la zona industriale. Comprensibilmente soddisfatto il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisins tuttavia avverte è necessario che per il nostro territorio virtuoso chi ha il compito di attribuire i pareri non rallenti il sistema burocratico. C'è infatti l'esigenza di rispettare i parametri della deadline 2024 per il Comune, 2026 per il Risacqua. È un progetto strategico per noi e soprattutto per il Comune di Monfalcone perché si interviene su un tema delicato. La condotta che porta l'acqua sul Colle della Rocca è unica al momento ed è vecchia per cui chiaramente il rischio c'era. Quindi questo è un progetto che sanno dal punto di vista e a zero il rischio e quindi siamo molto molto contenti. Al momento a Monfalcone insistono lavori sul sistema idrico per ben 11 milioni di euro. Oltre a questo progetto fondamentale per la sicurezza e l'efficienza della fornitura idrica della città dei cantieri, ci sono infatti anche i 5 milioni stanziati per il rifacimento della roggia San Giusto. Il nuovo collegamento da 3.000 metri risponde alle condizioni di obsolescenza e fragilità della condotta aduttrice esistente, collocata all'interno del contesto cittadino che rende particolarmente complessi gli interventi manutentivi. Ulteriore obiettivo dell'intervento è quello di ridurre le perdite presenti sulla condotta di aduzione principale. La configurazione del nuovo sistema alimentante permette altresì un efficientamento energetico ed idraulico dell'intero sistema di distribuzione.